di noi con l'Italia, quella da cui io provengo, ha aderito alla proposta di Silvio Berlusconi di aggregare i popolari intorno a questa lista e quindi a questo titolo io, Mattia Premazzi e altri amici siamo presenti e siamo tra i soci fondatori di questa associazione. I contenuti della nostra proposta sono scritti nel manifesto e il manifesto riprende anche in modo puntuale sia i principi sia gli ambiti programmatici prioritari di quello che noi vogliamo. Io però voglio prima di tutto dire che oggi noi non siamo qui innanzitutto per presentare un'iniziativa, un'associazione, un manifesto, un ciclo di incontri come vedremo poi, siamo qui per presentare una proposta politica, cioè siamo qui per dire che in questo momento di confusione e di caos i popolari europei ci sono ancora.